Questa era buona, questa non si sa, adesso vedete la faccia che fa cioccolatizzatore, un pitano, un'altra fatta, sembra la città. Questa è il centro della piazza principale, un'altra fatta. Quanto costava il menù? Oggi 5, 5, 5 soles, cada uno. E ora? 25, un plato di burrito. Ma 5 soles per una poca, medio litro di acqua. E no, perché è incluida? Questa è un poca, un poca, un poca, un poca. Sulla. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.